Ritorniamo in studio. La presidenza dell'Università per la terza età di Alghero comunica che oggi alle 17 presso la sala dell'ex seminario si terrà una conferenza del maestro Maglio Masu dal titolo Storia della pittura d'Alghero dagli anni 50. In occasione dell'anniversario dell'istituzione del primo parco europeo avvenuta in Svezia il 24 maggio del 1909, il Parco Naturale Regionale di Portoconte organizza come di consueto una serie di appuntamenti divulgativi e ludico-culturali. Venerdì 24 con inizio alle ore 17 verrà presentato in anteprima il video Cuore Carsico dedicato allo straordinario mondo geologico di Capocacce dell'intera area parco. A seguire la presentazione del terzo volume della collana e quaderni del Parco di Portoconte dal titolo La biodiversità dell'area e SIC di Capocacce e Punta Giglio nel Parco di Portoconte. Il video prodotto e curato dagli speleologi algheresi Giampiero Mulas ed Elisabetta Pischedda con la collaborazione del gruppo speleologico algherese. Un'opera che racconta con immagini mozzafiato lo straordinario mondo delle grotte emerse e sommerse di Portoconte dando particolare enfasi a quelle meno conosciute e inaccessibili al pubblico. Subito dopo ci sarà la presentazione ufficiale del terzo volume della collana editoriale I quaderni del Parco di Portoconte intitolato La biodiversità del SIC di Capocacce a Punta Giglio nel Parco di Portoconte. Il volume, curato dai ricercatori Emanuele Farris, Andrea Cosso e Antonio Torre tratta con estrema cura tutti gli aspetti peculiari della flora, fauna, degli habitat terrestri e marini presenti nel sito di importanza comunitaria di Capocacce a Punta Giglio e che rientra all'interno del territorio protetto del Parco regionale di Portoconte. Interverranno i curatori del volume, il presidente del Parco Stefano Lubrano e il direttore dell'ente Vittorio Gazzale. Ed ora allo sport, questa sera alle 20.10 la Dinamo Banco di Sardegna affronta al Palas Erra di Mini l'ultima gara della serie dei quarti di finale play-off contro Cantù. Si arriva sulle tre pari, infatti domenica al pianella i canturini hanno battute bianco-blu per 87-84 Il settimo incontro è dunque dentro-fuori occorrerà sfodere a una prestazione eccellente e sfruttare il fattore campo. È la notte del dentro-fuori, questa per la Dinamo Banco di Sardegna al Palas Erra di Mini alle 20.10 è prevista la gara 7 dei quarti di finale play-off scudetto ancora una volta Sassari e Cantù si affronteranno in una sfida all'ultimo canestro per il passaggio del turno Certo è che questa formula nuova di giocare alla meglio delle sette partite metterebbe a dura prova qualsiasi squadra giocare ogni due giorni, mantenere alta l'attenzione la condizione fisica non è cosa semplice oltretutto quando ti giochi gli scontri per uno scudetto Domenica il banco non è riuscito a chiudere la pratica sul parquet di Pianella campo da sempre ostico dove ha perso per 87-84 e dunque stasera si gioca la bella nella sua casa davanti al suo numerosissimo e caloroso pubblico che non vede l'ora di sostenere Vannuzzo e compagni per portare a casa il risultato anche oggi il palazzetto sarà una bolgia i biglietti per assistere a questa settima gara sono andati letteralmente esauriti in pochi minuti chi non potrà andare a vedere la gara a Sassari si potrà sintonizzare sul Rai Sport 1 che proporrà la diretta della partita palla 2 come detto alle 20.10 E ora parliamo di calcio giovanile prenderà il via domani per concludersi il 25 maggio il torneo internazionale Manlio-Selis di Budoni si tratta di una manifestazione sportiva di alto livello giunta alla 17esima edizione che vede coinvolte prestigiose squadre nazionali ed internazionali solo per citarne alcune la Juve, il Napoli, il Borussia Dortmund, il Chelsea e lo Zenit San Pietroburgo importante dunque l'invito a partecipare per la squadra esordienti dell'Alghero Calcio allenata da Giovanni Niedu e Luigi Masia ieri il sorteggio dei gironi che vedrà i giallorossi misurarsi innanzitutto con Napoli, Federazione Ticinese e Torres sicuramente un'esperienza positiva e di crescita per i ragazzi del presidente Gianni Paes che potranno misurarsi con parietà di altre realtà nazionali ed europee e parliamo adesso delle due ruote con la gara svoltasi a Banari che ha visto protagonisti gli atleti dell'Alghero Bike ieri si è svolta a Banari l'ottava prova di campionato sardo di mountain bike speciale in Cross Country la gara organizzata dalla SD Trauma Bikers di Tiesi ha percorso i sentieri situati alla sommità del paese il percorso si presentava in ottime condizioni nonostante le piogge degli ultimi giorni e si è svolto tra ripide salite alcune su cemento, altre su sterrato e veloci discese in single track all'interno della pineta alle 10 come di consueto hanno preso il via le categorie giovanili nella prima griglia l'allievo di secondo anno Andrea Galluccio nonostante una buona partenza si è dovuto accontentare della quinta posizione in seconda griglia è partito l'esordiente Francesco Cattogno che non è andato oltre l'undicesimo posto di categoria poi via alla Juniores e ai Master nei tre giri a disposizione il porta colori dell'Alghero Bike Daniel Foglianesi reduce da un infortunio si è piazzato settimo nella categoria Juniores a seguire sempre contro i giri Luciano Cattogno terzo all'arrivo nella Master 4 stesso gradino del podio per Roberto Del Rio nella Master 5 e ancora Salvatore Galluccio sedicesimo posto nella Master 4 diverso discorso invece per Diego Donapai che è giunto ottavo nella Master 2 ma con un giro in più così come ha fatto anche Claudio Amendola nella stessa categoria arrivato però quattordicesimo sfortunata invece la prova del forte atleta Giampiero Nieddu che non al meglio ha disputato una buona prima parte di gara ma poi è stato costretto al ritiro l'appuntamento con le due ruote è per domenica prossima a Posada dove si svolgerà la penultima prova del campionato sardo ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio al meteo e vi ringrazio come sempre per averci seguito arrivederci